Buonasera a tutti, la settimana scorsa abbiamo visto le potenzialità di KDN Live, il software specifico per il video editing, le caratteristiche di stabilità con l'ultima versione, la semplicità di utilizzo, l'uso degli effetti grafici. Oggi diamo un'occhiata a Blender, più che altro io ho controllato non per verificare le differenze perché alla fine non possiamo mettere a confronto questi due software che sono totalmente diversi, anche se in parte riescono a fare la stessa cosa. Blender è un insieme integrato di strumenti per la creazione di contenuti tridimensionali, contenuti 3D, vanno dalla modellazione tridimensionale anche ai videogiochi e a qualsiasi altro campo che comprenda il 3D. Allora, vedremo il sito internet dove scaricare il programma, la versione e faremo una prima apertura per modificare l'interfaccia del Visual Sequence Editor che è la parte di Blender che noi andiamo a guardare questa sera. Poi le impostazioni del progetto, le proprietà da modificare, alcune cose particolari e le cartelle del progetto. Allora, sito internet, eccolo qui, lo potete raggiungere, andate sul download e scaricate il pacchetto compresso, lo spacchettizzate nella cartella che prevedete voi, all'interno c'è un eseguibile, l'eseguibile poi se volete potete crearvi un'icona avviabile nella barra dei menu o quant'altro. La comunità italiana di Blender con la formazione, fanno anche un magazine, ci si può registrare fare parte di questa comunità e collaborare. Allora, per l'installazione invece dai repository, per Debian e derivate, apk.get installblender e per Fedora, dnf installblender. Semplicemente scaricato, abbiamo il programma, si presenterà con questa interfaccia. Quella è una splash screen che presenta sulla sinistra i collegamenti principali e sulla destra gli ultimi lavori eseguiti. Poi vedremo come eventualmente toglierla, di modo che quando voi aprite il programma non la vedete più, se vi dà fastidio, se ormai avete un po' di manualità col programma, andate diretti al vostro progetto. scaricato. Allora, abbiamo visto lo scaricamento, la versione, come avete notato prima, è la 7.82, anche dai repository di Ubuntu. 7.2.86, scusate ho sbagliato, vediamo, la 2.78, io sono avanti, devo metterlo. Allora, allora, no, no, vabbè, ma possiamo pure discutere, tanto grazie al video editing possiamo tagliare queste parti orrende, anche di un talk. Allora, adesso possiamo vedere di modificare l'interfaccia per utilizzarla come un video sequence editor. Allora, io apro il mio programma, se ci riusciamo, infatti non ci riusciamo, devo uscire, mi dispiace, e andare, ok, ecco qua, non guardate qui perché vi faccio vedere, ecco, questo è quello che trovate voi all'apertura della vostra, del vostro programma. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impostare le finestre, come potete vedere qui a sinistra, dove c'è questo triangolino, quello indica la presenza di una finestra, anche questa possiamo considerarla una finestra, anche questa. Per comodità, senza dare modifica a ogni singola finestra, Blender cosa fa? Nel menu disposizione schermo ha già dei preimpostati in base alla necessità di progetto, se voi dovete fare del video game, se voi dovete fare della grafica 3D, della modellazione, noi in questo caso andremo a selezionare il video editing, ed è ecco che la vostra interfaccia si presenta in questo modo. Allora, troviamo sulla sinistra il file browser, dove potete spostarvi all'interno del vostro computer per trovare i file che saranno quelli che utilizziamo per montarli nel sequence editor sottostante, inseriamo video, immagini e audio. Sul rettangolo azzurro, blu, potete vedere l'anteprima delle clip che voi andrete a inserire nel sequence. Sulla destra, la finestra delle proprietà, le proprietà di progetto che voi date ad impostare all'inizio e che poi si che sono quelle che voi vorrete alla fine del vostro lavoro. Cioè io imposto tutto, voglio che il mio lavoro, tutte le immagini, le foto, i video che metto all'interno e l'audio, vengano fuori in quel modo lì. E poi vediamo come. Alla fine, sotto il sequence, dove come vi dicevo prima mettete le clip, a destra c'è un menu che sono le proprietà della clip attiva. Poi vedremo meglio. Sotto la timeline, cioè il tempo, la linea del tempo del vostro video. Allora, possiamo andare a vedere come impostare queste finestre. Allora, abbiamo detto video editing. Nel caso volessimo cambiare qualcosa, tipo spostare per comodità, perché io lavoro meglio con una finestra più grande, perché il sequence è troppo grande o troppo piccolo, ci spostiamo nelle linee di separazione e possiamo modificare ogni finestra come vogliamo. Fatto questo, cosa possiamo fare? Possiamo creare un nostro modello che andremo sempre ad utilizzare anche nei prossimi progetti, che è quello nostro, che a noi ci è più congeniale. Allora, cosa facciamo? Mettiamo conto che questo sia quello che piace a me, aggiungo un nuovo schermo e lo nomino come Mario. Va bene. Adesso il mio schermo Mario sarà sempre quello che utilizzerò per fare il video editing. Io ne ho creati altri, come Brandon Talk, perché stasera che non userò. Il mio editing, vedete, è diverso e ha delle determinate impostazioni. Torno sul, se voglio, cosa faccio? Vediamo un attimo, andiamo da Mario. Se non mi piace più, lo elimino. Ovviamente devo tornare su, scusate, devo tornare sul menu a tendina e andare su video editing per tornare alle impostazioni per il montaggio video. Ricordatevi questa, informazioni e video editing. Allora, a questo punto ci sono dei parametri da modificare. Perché? Perché dobbiamo, appunto, configurare il nostro progetto. Allora, la renderizzazione. Ricordatevi, l'importante, nella visualizzazione, mantenere questa disposizione. Ci sono, è un menu a tendina, potete modificarlo. Vi consiglio di mantenere questo, di modo che quando andrete a renderizzare il vostro lavoro, non potrete aprire altre finestre che possono, che so, danneggiare tutto il lavoro di rendering, perché ci vuole tempo per renderizzare, che so, un'ora di lavoro, ci vuole parecchio tempo. Altre impostazioni, le dimensioni. In questo caso, nei talk che facciamo noi, utilizziamo una risoluzione di 1920x1080. La manteniamo, dobbiamo solo ricordare di mantenere al 100% questa percentuale, altrimenti la nostra uscita verrà scalata. Altra caratteristica, mettiamo i frame di uscita a 25. Questa è un'altra impostazione classica, diciamo. Se noi abbiamo una, che so, una videocamera che fa i frame a 30, la registrazione a 30 video, frame per secondo o a 60, e lavoriamo sempre in quel modo, andremo a impostare questa uscita in base alla videocamera che noi utilizziamo. Altre caratteristiche, dunque andiamo a prendere solo le caratteristiche basilari, perché poi qua possiamo spaziare su mondi che anch'io non conosco. Anche le prestazioni, dunque, i metarati. L'uscita. Impostiamo la cartella di uscita in cui noi vogliamo che il nostro progetto venga salvato. Allora, apriamo il menu e la selezioniamo. Io ho messo video Nicola, home Nicola video, e tutte le mie registrazioni vengono inserite all'interno di questa cartella, che si trova in questa posizione. Accetto nel caso voi non l'abbiate ancora fatto, io l'ho già fatto, per cui non vado a modificare altro. Altra caratteristica, quando lo aprite per la prima volta, vi troverete in questa impostazione il formato in cui verrà salvata l'immagine. La prima volta ci sarà penso un JPEG, credo, un PNG. Lo modificate MPEG. RGB, se volete i colori. Altro fattore da modificare è la codifica, la codifica in cui il vostro video in uscita andrà realizzato. Allora, il format, uno dei migliori, è l'H.264 e lo impostiamo. Poi questo, se uno fa video per altre cose, lì è solo una questione di provare le uscite e vedere i risultati che si fanno. Insomma, per comodità, questa sera andiamo dritti al punto perché il programma è veramente enorme e noi facciamo anche solo una piccola parte questa sera. La codifica audio, anche qui la AAC è una delle migliori compressioni che dà un'ottima qualità. Direi di lasciare stare tutto il resto e abbiamo impostato il nostro file di uscita. Basta così. Come dicevamo, che cos'è questa? Questa è la finestra delle proprietà del progetto in uscita. Allora, a questo punto vediamo se c'è qualcos'altro da modificare. Andiamo a vedere le preferenze utente. Le preferenze utente vanno sia dalla configurazione del layout, diciamo, delle finestre, ma anche alcune preferenze specifiche che adesso andremo a vedere dal menu file che trovate nella finestra principale. Allora, andremo a modificare l'ingresso, il play, andremo a modificare chi vuole la traduzione e poi andremo a salvarle con il comando ctrl u. Salva l'interfaccia del modello, l'abbiamo visto prima, ctrl salva il progetto, recupera la sessione, sono altre cose. Allora, andiamo a fare. Questa è la file, come dicevo. Possiamo trovare preferenze utente. Ecco, una caratteristica di Blender è l'utilizzo delle squacciatoie. Allora, preferenze utente, dal menu file, altrimenti, cos'era, ctrl alt u, preferenze utente. Le preferenze utente possiamo cambiare tutti i parametri che vogliamo. Quelli che vi consiglio io per incominciare è ingresso, andiamo nella barra di ricerca, cerchiamo play e troviamo che ci dà questi risultati per quanto riguarda il play. Perché facciamo questo? Per comodità. Perché voi, se state provando, avete in questa posizione, non avete la barra spaziatrice, ma avete un ctrl A, mi sembra, una cosa del genere, un shift A, non mi ricordo bene. Allora vado qui e vado a modificarlo. Premo all'interno, faccio barra spaziatrice, ecco che ho impostato il mio avvio e il mio pausa del cursore che visualizza le vostre clip sull'anteprima, quando lo fate avviare, quando lo fate fermare. Abbiamo dato la barra spaziatrice per comodità, perché è comodo da utilizzare. Altra caratteristiche sono gli addons, sono come dei pacchetti aggiuntivi, dei plug-in, possiamo anche chiamarli così. Ne ho provati in uno particolare legato al QGIS, che è un altro programma di software per il territorio, molto interessante perché estrapola le mappe di OpenStreetMap e ve le fa visualizzare, ad esempio se prendete Manhattan, che è anche la visualizzazione tridimensionale, per visualizzare in tridimensione, molto particolare. Insomma ci sono dei video che potete vedere, magari eventualmente fare queste prove interessanti da, sì, su Blender. I temi, beh questi potete cambiare tutto quello che volete, colori e quant'altro, andiamo avanti perché. Ecco un'altra cosa, un file anche qui, ci sono altre caratteristiche da modificare, ma a noi non interessano. Le cose che ci possono interessare sono in generale i DPI, allora maggiore sono la visualizzazione dei DPI, maggiore sono i DPI, dunque più la macchina dovrà lavorare e più lente saranno alcune procedure. Allora cerco di tenere basso questo valore. Altra caratteristica, il limite della memoria cachet, della RAM, è utilizzare, avete tanta RAM, allora alzate questo numero in modo da avere una fluidità nello scorrimento delle clip, delle visualizzazioni in anteprima e lavorare in maniera dinamica. Un'altra caratteristica, allora il vostro Blender la prima volta sarà in inglese, se volete una traduzione in gestazione, scegliete la lingua, coreano, consiglierei, e poi flaggiamo le tre barre, interfaccia suggerimenti, nuovi dati e avete il vostro Blender in italiano. Come diceva nel tutorial che poi vi mostrerò, vi darò il link che ha preparato Stefano, averlo in italiano vi preclude magari un'interazione con dei tutorial in inglese che è la parte preponderante nella rete che potete trovare. Impostate queste cose, ecco qua, salva impostazione utente, come abbiamo visto prima, CTRL U. Allora noi premiamo qua, va bene, e ho chiuso Blender, bravissimo, complimenti. No, non l'ho chiuso. E abbiamo impostato anche le nostre preferenze di come lo vogliamo un po' anche parte dell'interfaccia. Fatto questo, procediamo con le successive operazioni. Allora, questa l'abbiamo vista, anche questa. Allora, organizzare il progetto. Come per KDN Live, anche Blender e penso ogni tipo di software per la realizzazione video, necessita di un certo ordine. Per cui ricordatevi di suddividere i video, gli audio, in questo caso che noi facciamo la registrazione del monitor, lo screencast e le immagini. Noi utilizziamo per questo progetto, la copertina e il logo di condivisione. Io ho suddiviso in questo modo, per cui ricordiamoci sempre l'ordine per quanto riguarda il making. Andiamo avanti, muoversi nel sequencer. E qua, ecco diciamo un po' le rogne, perché è solo una questione di tempo. Dovete prendere mano all'uso del shift freccia per muovere il cursore a fine o inizio sequencer. E questo lo facciamo subito perché ancora non avete visto che cos'è il cursore. Il cursore è questa linea verde. Se noi ci spostiamo con il mouse e premiamo con il sinistro mouse, lo spostiamo dove vogliamo noi. Ok? Per comodità, la sequenza shift freccia destra va in fine del nostro progetto, che in questo caso è lungo un minuto. Vedete che anche nella timeline si sposta alla fine. Shift sinistra all'inizio. Bene. Cosa posso dirvi su questa caratteristica? Dunque possiamo visualizzare il sequencer in frame o in secondi. Ctrl T sulla finestra sequencer e vediamo i frame. Quanti frame ci vogliono per fare un minuto? 60 per 25. Questi sono quelli che abbiamo impostato precedentemente. se ci mettevamo 30 ovviamente cambiava questa configurazione. Anche qua nella timeline stessa cosa. Potete vedere vista. Vediamo qua. Ctrl T. Eccolo qua. Frame. I secondi. Stessa cosa qua. Ctrl T. Di nuovo. Comandi che pian piano uno impara a gestire. Fatto questo andiamo a vedere se ci sono altre cose. Rotella, mouse, seconda, timeline, rotazione, ruotandola, zooma in orizzontale. Premendola, spostiamo come un pan, ci spostiamo nel progetto. Dunque la proviamo subito. Ruoto, vedete? Si zooma. Vedete che quel minuto rimane fisso ma diventa sempre più stretto. Stessa cosa anche qua. Ok? Se la premo, se io ho delle clip su ogni linea che vedete che sono i canali, allora mi sposto dove voglio. Per ritornare alla visualizzazione dell'intero progetto, home o freccia su. Vediamo. Com'è? Eccolo lì. Vedete in fondo a questa slide? Home. O trovate scritto home o trovate freccia su. È la stessa cosa. Premete quella quando siete in una finestra e il vostro progetto vi si visualizzerà completamente. Andiamo su. Torniamo su. Dunque abbiamo visto lo zoom e lo spostamento. Ecco questa è la cosa più difficile. Contro e rotella mouse premuta. Se volete provare. Dunque. Se io. Allora inseriamo una clip così. Tanto per vedere. Dopo vi faccio vedere meglio come fare. Se io premo. Contro e la rotella. Ecco che se mi muovo orizzontalmente. Zoom tutto quanto. Un po' come lo zoom della rotella. Vedete? Così. Se mi muovo verticalmente. Ecco che zoom. Le clip. Le aumento di dimensione. Questo per muoversi e spostarsi. Quando devo fare un lavoro su clip molto piccole. Tipo da. Non so. Uno, due, tre secondi. Allora vado proprio nel. A zoomare per lavorare meglio. Se provate. Vedrete che non è molto semplice. Bisogna prendere un po' la mano. Fate delle prove. Anche solo con una slide. Sì. Con una clip. Tanto per regolarvi. Page su e page giù. Cursore. Verso destra. Ricordo il cursore. Sempre che la linea verde. Al successivo riferimento della clip. Se io nella clip. Che so. Ho fatto dei tagli. Ho più spezzoni. Il mio cursore. Andrà di spezzone in spezzone. Spostandosi. A questi riferimenti. Che sono. Per lui può essere. Mi sembra che si fermi nel mancatore. Non credo. Dovrebbe fermarsi. Dopo facciamo una prova. E comunque ecco. Pagina su. Pagina giù. Ci spostiamo in maniera diversa. Se vogliamo fare una prova. Vediamo. Se io faccio pagina su. Dove siamo andati. Allora. Home. Vediamo tutto. Siamo andati in fondo. Infatti non si è fermato alla fine del progetto. Ma si è fermato alla fine della clip. Altra cosa interessante. Che c'è anche nelle slide. Dimensioniamo il nostro progetto a dimensione delle clip. Adesso è lungo un minuto. Ma se io inserisco una clip lunga 12 minuti. Un'ora. Mezz'ora. Quello che è. Faccio in modo che il mio progetto sia grande come quella clip. Perché immagino che alla fine del lavoro io vorrò un risultato di un tempo di 12 minuti. Mettiamo conto. Allora mi sposto nella timeline. E premo E. Ed ecco che avete visto che tutto il progetto si è aumentato di dimensione. Queste cose le possiamo vedere anche. Primo fotogramma e lunghezza. Questo è nel caso della clip. Mi sembra. Esatto. Eccolo qua. 12 minuti e 41. Più 9 frame. Stessa cosa per questo. Vediamo freccia su nella home. Eccolo lì. 12 minuti eccetera. Fatto questo andiamo a vedere cosa ci rimane. Pagina su e pagina due abbiamo visto. Allora. Caricamento della clip. Ci sono due modi. O dal file browser che abbiamo visto prima per comodità. Oppure Shift A. Andiamo nel menu. Carica. E lì scegliamo se caricare immagini, video oppure audio. Facciamo subito una prova. Allora. Eccolo qua. Scusate. Vista. Ricapitoliamo. Aggiungi. Eccolo lì. Shift A. Aggiungi dal menu. O suono o immagine o filmato. Ho inserito il filmato prima. Adesso voglio inserire un'immagine perché sarà l'immagine di presentazione che si trova su immagini. Locandina. Eccola qua. Aggiungo spezzone immagine. Dunque vado nella cartella dove c'è l'immagine. E aggiungo l'immagine. Eccola qua. L'immagine mi copre tutto quanto. Dovrò poi andarla a ridimensionare. Allora. vi faccio ripetere questa azione perché è un po' importante. Eccola qua. La clip sarebbe qua perché voi quando inserite qualsiasi cosa andrà a legarsi al cursore. Ovunque il cursore si troverà. Se io faccio. Vediamo. Riproviamo. In questo caso. Immagine. Locandina. La trascino. Anche se mi metto di qua. O se mi metto qua dove voglio. Nel sequence. Se la mollo. Ecco che andrà a inserirsi sul cursore. Come dicevamo. Il cursore inizio progetto. Shift Sinistro. Eccolo lì. Ma come facciamo a spostare una clip? Vediamo se c'è scritto qua da qualche parte. No. Non c'è scritto. Mi sembra strano. Non l'ho scritto. Va bene. Ve lo spiego. Lo spieghiamo direttamente con una visualizzazione. Con una prova. Allora. Control. Mouse. Andiamo a zoomare sulla clip. Questa clip com'è? È grande. È un frame. Come possiamo aumentare un'immagine? Destro. Mouse. Prendiamo la maniglia. Ogni clip ha una maniglia. Che sia video, audio o immagine. Destro. Mouse. Trasciniamo. Aumentiamo le dimensioni della clip. Ok? E per bloccarla la dimensione desiderata. Sinistro. Mouse. Control. Rotella. Diminuisco le dimensioni. Faccio la stessa cosa. Così la vediamo benino. Sinistro. Mouse. Blocco la dimensione. Control. E rotella. E diminuisco le dimensioni del progetto. Faccio un home per vedere tutto il progetto e la posizione della mia clip. Che in questo momento io ho selezionato. Per cui è attiva. Come faccio a legarla al cursore? Faccio Shift S. Ops. Svegliamo qualcosa. Svegliamo. Shift S. Ok. Scusate. Era ancora attiva il movimento delle maniglie. Dunque. È comunque selezionata. Shift S. Vuole andare. Ok. Non va. Non va. Non va. Come era? Ok. Vediamo. Di nuovo. Allora, ho scelto S, pure che sia in una cosa, vediamo, dobbiamo fare così per curiosità. Allora, ho scelto S, non ho capito come mai questa cosa, ma poi, allora, vediamo qua, questa clip che problemi ha. Allora, la cosa mi infastinisce un po' perché dovrebbe funzionare e non riesco a dire come mai. Allora, torno nelle clip precedente, adesso selezionarla qua un po' come impresa, ah, possiamo usare un altro sistema, dopo vi spiegherò, vediamo se funziona. Ok, Shift S, ecco che la clip è sparita all'inizio del progetto. Allora, lì modifichiamo la dimensione. Ah, sì, anche sull'impostazione. Allora, le dimensioni, ecco qua, possiamo modificarle anche da di qua, vedete? Adesso io sono andato sulla lunghezza, posso modificarle anche qua per comodità, anche io, quando è troppo facile non va bene, no? Allora, ok, riproviamo, eh, mfasti sarà. Z, probabilmente perché sono attivo su questa cosa qua. Non riesco a rifiutare mai, non me la sposto. Allora, se non restare, seleziono, oh, finalmente. Va bene, poteva andare peggio. Allora, diciamo che la prima cosa che schiazza è il fatto che si seleziona quel tasto dentro. Sì. Non si seleziona quel tasto sinistro, ok? Quindi, seleziona qualcosa, tasto dentro. Poi, se scegli la clip, come ha fatto Riccola, la selezioni in mezzo, allora ti trascina la clip verso il pulsore. Così adesso? Io la sto selezionando. Se invece, selezioni da una maniglia, con lo shift asset, ti allunga l'inizio e la fine, fino a allinearsi con il pulsore. Esatto. Adesso lo presento, per esempio. Prova, magari bisogna capire se la clip è selezionata o no, perché se non è selezionata, il shift asset, no? Penso che sia... No, quello che ho commesso io è che l'ho selezionata, ne ho allungate le dimensioni con la maniglia, però poi non mi sono staccato da questa opzione. E allora quando andava a fare shift asset, lui andava a diminuire praticamente a zero la mia clip e io non potevo più selezionarla perché non aveva una dimensione di un frame, ma di zero frame. Dunque bastava solo andare sulla sua dimensione e aumentarne le dimensioni e ovviamente uscire dalle impostazioni della maniglia. Allora, abbiamo visto queste impostazioni, va bene, questo lo vedremo dopo. stavamo parlando appunto di inserimento clip, abbiamo visto appunto le due metodologie. La clip possiamo dimensionarla e ci vengono dati delle caratteristiche della clip in questo menu che potete attivare o disattivare con... con M. Eccolo qua. Cosa vi accorgete? Da cosa vi accorgete? Che c'è sempre un menu a fianco, vedete il più. Su una finestra, anche qua vedete il più, se io lo attivo, appare il menu. E anche qui, questo è il menu dell'anteprima. E chiudiamolo con N anche in questo caso. Le proprietà di quella finestra. Eh? Le proprietà di quella finestra. Le proprietà di quella finestra, esattamente. Sono sempre proprietà invece di questa clip. Ok, altre caratteristiche. Allora, abbiamo l'opacità, andiamo a vedere questa clip. Dunque, le caratteristiche è il nome della clip, la miscolanza la vedremo dopo, l'opacità della clip, lo spegnimento se io non voglio visualizzarla quando ho più clip sovrapposte e sto facendo dei lavori su determinati clip. Il canale in cui si trova la clip, in cui posso spostarla di canale, la mettiamo all'1. Il primo fotogramma vediamo che si trova allo 0, quello in cui ho legato io precedentemente al cursore e la lunghezza della clip che in questo momento è il 693 frame. Andiamo avanti, ingresso, spezzone, vediamo, ti dice dove si trova un po' la clip. Se vogliamo, cosa ho fatto? L'ho spenta. Andiamo a accenderla, scusatevi, così eventualmente andiamo a fargli delle modifiche. Se vogliamo modificarne le dimensioni, allora, incominciamo, no, allora ci sono, c'è un'opzione, ma forse è meglio se ve la faccio vedere dopo, adesso visualizziamo un po' in generale questo tipo di opzioni. Il ritaglio immagine, ecco qua, dunque, questa se la strecciamo, eh, niente, questo è solo del, dell'aumento, lo aumentiamo, lo spostamento, prima lo spostamento e poi, ecco, adesso posso tagliarla. Prima seleziono lo spostamento immagine e poi posso usare il ritaglio immagine, ecco che io posso tagliare la mia immagine se magari in alcune foto, alcune immagini ci sono dei particolari ai bordi che vogliamo tagliare o diminuire o prendere solo un particolare dell'immagine, possiamo farlo in questo modo, ok? E qua dovete fare le prove per capire un po' come funziona questa, questa opzione del taglio. Togliamo via, eh, altri filtri, va bene, assicurazione, altre caratteristiche che per il momento possiamo tralasciare. Allora, cosa andiamo a fare? Abbiamo visto l'inserimento delle clip, adesso incominciamo a realizzare il nostro progetto. Allora, come vi avevo fatto vedere precedentemente, io ho voluto seguire una sequenza di inserimento delle clip, anche per una logica di costruzione. Anche questo, quando voi andate a impostare un progetto, scusate, cercheremo prima di vederlo a mente o su un foglio di carta, come può avvenire, perché sarà più comodo poi elaborarlo. Allora, io inizio con il video principale, che è quello che riprende il talker. Non so se chi si chiama così, comunque, chi fa il talker. Inseriremo l'audio. La cosa molto importante sarà allineare l'audio che noi facciamo tramite un microfono esterno e l'audio della videocamera. Lo screencast allineato al video. Poi le immagini di copertina e il logo e li vedremo come fare degli effetti per inserirle in maniera particolare. Allora, andiamo avanti e vediamo se... ok. Allora, beh, questa possiamo lasciarla... portiamola su, ci ricordiamo che ce l'abbiamo, perché dopo se la spostiamo, magari ce la dimentichiamo in giro, la portiamo al 10. Ecco, un'altra caratteristica. Adesso io le proprietà del progetto le ho impostate. A me queste cose qua non le cambio più in questo momento. Per cui avere anche le proprietà qui per il momento non mi interessa niente. Ma come faccio a eliminare questa finestra? Si, rimane lì, ma non è bella. La caratteristica, come vi dicevo, dall'apertura progetto avreste potuto cambiare tutte le finestre a vostro piacimento. E come? In questo modo. Questo è il triangolino che vi dicevo di... per gestire le finestre. Se noi lo muoviamo verso la finestra sulla destra delle proprietà, vedete la freccia grande, andrà ad eliminare la finestra. Se noi vogliamo un'altra finestra, cioè vogliamo far ricomparire le proprietà, apriamo un'altra finestra. Ogni volta che voi aprite una nuova finestra, si crea un copione della finestra dalla quale state creando una nuova finestra. Poi basta che vado nel suo menu a tendina e seleziono le caratteristiche della finestra che io voglio dargli. Quindi, in questo caso, proprietà, eccolo qua, ritornate alla mia finestra. Se voglio dargli altre caratteristiche, che sono l'editor dei grafi, se voglio dargli di nuovo il... cos'è... editor firmato... eccolo qua, questo è un altro, va bene. In questo momento non ci interessa più e la eliminiamo. Stessa cosa si può fare anche con questa. Vedete? Va, proviamo, proviamo a togliere. Ecco, tutto è una bella anteprima, tanto ci servirà ancora. Per cui la riproponiamo, andiamo qua, facciamo varie prove, anche perché entri un po' in testa, perché proprio queste dinamiche non sono facilissime da ricordare. Bisogna solo provare e cercarle. Prima volta che voi cambierete le finestre, vi troverete con 15 finestre, non saprete più dove metterle. Allora, vado nella finestra, attiva e cambio le proprietà di nuovo in browser, perché mi serve ancora. Ne diminuisco le dimensioni, perché non è necessario tutta questa visualizzazione. Ok. E cos'altro? Niente, andiamo ad inserire le nostre clip. Allora, andiamo a vedere tutto il progetto. Cursore a inizio progetto, shift sinistra. Inseriamo le nostre clip video editor, free cut video. Incominciamo con la prima clip, la seleziono e la butto dentro. Ecco qua. Come dicevamo, questa dobbiamo spegnerla. La seleziono, vado in opacità, metto su. L'occhio ed ecco che si è spenta e visualizzo il filmato. Il filmato che è correlato dall'audio. Vediamo se si sente. Vediamo se si sente, non si sente. Non si sente perché. Ah, non si sente. Intanto, vediamo se riesco aumentare un po'. No. Quindi, da questo paritipi, io ho inserito i movimenti, io ho bloccato il controllo. L'audio va bene, non mi porto. Comunque avete visto che si sente. Lo blocchiamo. E abbiamo inserito la prima clip. Adesso, l'importante, cerchiamo di inserire l'audio registrato da microfono che troveremo in audio. Si chiama FreeCAD con un'estensione OGG. La selezioniamo, anzi scusate, prima mettiamo il cursore a inizio progetto. Selezioniamo e trasciniamo all'interno. Adesso spegniamo l'audio che si è generato con la registrazione del video. Basta prendere qua. Ecco, vedete che modifica spezzone. Questo è un video. Move. Ho selezionato la sezione audio e mi dice, appunto, vedete che non vedete la possibilità di opacizzarlo o meno, perché è un audio e non si può opacizzare. Vi dà le varie caratteristiche e quant'altro. Possiamo abbassare e diminuire il volume. E la bella. Mettiamolo a 1. Ok. E andiamo a spegnerlo, che per il momento non ci interessa. Dunque... Come facciamo ad allineare questo... Oddio, no. Scusate. Dobbiamo allineare l'audio delle due clip. Come possiamo fare? Allora, grazie a questo talk sono venuto a conoscenza di una cosa molto interessante, che è la sincronizzazione audio e video, che si può fare con la forma d'onda. Nelle clip audio, il programma mi permette di visualizzare la forma d'onda. Di conseguenza, io posso riconoscere dei punti di comparazione tra le due clip. Ecco che torna. Cosa importante. Ho capito a cosa serve il Chuck. Quando vediamo nei film che fanno il Chuck, perché ovviamente fanno le prese video, fanno le riprese audio e poi montano tutto. E il Chuck è un punto molto importante per allineare probabilmente tutti questi lavori. E questo lo facciamo anche noi questa sera. Come dal menu vista, disegna forma d'onda, forma d'onda on. Dopo pochi secondi vi si visualizzerà nella clip audio un'onda acustica. Chiamiamola così. Ok. Non serve che selezioni uno o l'altra. Quando li ho impostati così me lo fa su tutte le clip audio. Allora, vista. Abbiamo detto disegna forma d'onda, forma d'onda on. Ecco me l'ha fatta su una. E me l'ha fatta sull'altra. Perché me l'ha fatta su una e dopo sull'altra? Allora, freccia on. E non lo so perché. Ma no, perché mi ha fatto prima quella sotto stranamente. Forse perché è legata al clip video. Ok. Allora, prendiamo un punto di interesse. Che come si diceva? Che cos'è? Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, vediamo un attimo. Che cos'è? Eccolo lì. L'abbiamo visto qui. L'abbiamo visto qui. Mettiamolo qui all'incirca. Se noi vogliamo fare bene le cose possiamo zoomare quanto vogliamo. anche in verticale. Ed eccolo qua. Ci mettiamo. Vedete che questa è la dimensione di una clip. Dunque non è anche facile selezionare le flecce. Flecce sinistra a destra e avanti il punto. Sì, sì. Non dico col mouse ma selezionare dove voglio io. Che è? Vedete? Sarebbe proprio il mezzo al... Allo spezzone audio. Selezioniamo. Ma quelli sotto sono? Sbagliato. Quelli segnati lì 9 più 10, cioè sono 3? Questi sono secondi. No. Sì. E 10 sono i frame. E quelli qui in più sono i frame. Esatto. 9 secondi e 10 frame. 9 secondi composti da 25 per... Perché hai visualizzato la timeline come secondi. Esatto. Allora. Che cos'era? Control T. Frame 325. Dato da 9 per 25 più 10. Ok. Questo l'abbiamo impostato. Cosa facciamo? Mettiamoci un punto che mi possa ricordare che quello per me è importante. Mettiamo un marcatore. Allora, marcatore, aggiungi. Senza andare in una tendina. Scocciatoia. M. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare il Chuck anche nell'altra... nell'altra clip. Spegniamo questa di modo da non sentirla. Portiamo un po' la clip dove sarà mai questo Chuck. Vediamo un po'. Se senti di scrub puoi ascoltare il cursore e senti l'audio. Dov'è questo? Eh... Se dai su... Spezzone, poi non so. Adesso dovrei aprire... Vabbè... Comunque... Vado un po'... Comunque vado un po' ad occhio... No... Non so se sia qua... A un po'... Ma parto qua? No. Questa è la parte... Ma parto qua? Questa è la parte... Questa è la parte... Questa è la parte. probabilmente sono in una posizione di zoom molto ampia eccolo qua il nostro chat dovrebbe alluncirci qua eccolo qua allora perché io so dove l'avevamo messo posso selezionarlo e mi avvicino al cursore al scusate al marcatore zoom, control, rotella zoom, zoom andiamo di fino selezioniamo il chat lo spostiamo allo stesso frame vediamo un po' quello è il video ok mi sembra abbastanza in ordine cosa possiamo fare? dunque tutto quello che è al di là del chat non mi interessa allora in questo momento cosa facciamo? impariamo un po' a tagliare una clip sono due tipi di quando tu hai messo il marcatore prima si vedeva che il funge del chat è il ruotamento tra un vento esatto lì hai sbagliato Stefano sono riuscito a riuscire io penso che sia che sia la distanza dal chat alla ripresa non so se si apre 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 no ora siccome l'altra traccia è iniziata in un altro momento tu hai allineato e hai fatto circa meno quasi però non erano perfettamente uno non erano perfettamente uno allora in quel caso è possibile tagliare una traccia di un clip che sia inferiore al programma per fare in modo che casa totalmente uguale perchè l'allineamento lo puoi fare solo frame su frame quindi se il chat dell'audio non è esattamente problemi l'audio tu non potrai mai fargli compasciare e quindi la domanda è io come faccio a togliere mezzo un programma da un... si si ho capito questo per quale modo che si... che... che ci... ehm... dunque... non ne ho la più valida idea lo fai con un altro software e io... e togliere un tempo che sia... una frazione del frame a seconda delle... se... dobbiamo aumentare il tremoletto del programma e quindi poi aggiunge un effetto Io facendo così però mi sono trovato, non so quanto, dopo 12 minuti di video, dopo un po' di più, quando tu clicchi, c'è una immagine in cui tu clicchi sul mouse che corrisponde nuovamente, anche dopo 12 minuti, non c'è uno spasamento nel tempo. No, non so, però per quanto sia piccolo non spasamento. Certo, non è percepibile, non è percepibile assolutamente, non riesce a percepire la differenza di un cinquantesimo di secondo sull'audio. Anche a mio orecchie quadri assolutamente. Sì, ovviamente. Non senti la differenza assolutamente. Cioè, poi ti farà vedere forse il bel di Blender è che agendo sulla posizione inizio della clip audio, mentre va in play, puoi spostarlo. Ok, di un frame alla volta, quindi vai in play, senti le tue tracce audio e poi sposti uno dei due clip audio, di un frame a sinistra o a destra e senti proprio l'audio in fase. perfetta, cioè, prima lo metti vicino a tutta la forma d'onda, poi, casomai, lo ripropi, ma lo senti essenzialmente. Ecco qua. E poi metti un frame lì. Vedi, questo è un frame, questo è un frame, qua non è Chuck, qua è Chuck e praticamente se tu li sovrapponi così, cioè in mezzo a un Chuck, scusè, 25 frame al secondo, la 25 è smacato, dacci l'ho. Allora hai il doppio del controllo sul frame. Ecco. Comunque, probabilmente con gli altri software che so come si chiamava. No, no, assolutamente. Inoltre, forse non si fare, ma hai preso un video, hai la stessa frequenza di taglio, cioè nel numero di stai pagli, al numero di stettine di audio che fa, 44 di due minuti. Cioè fai a migliaia delle frame a seconda, per imprendere in tala venta di video. Però è un rendering del suo, ad esempio, ma non può essere sia... Ti assicuro che non si si sente più con il video? Potremmo, dunque, in quanto a questa domanda, vi mandiamo al meeting di Amsterdam, su Blender, che ci sarà prossimamente. Allora, tutto quello che c'è a sinistra, come abbiamo detto, non mi interessa. Anche un po' di quello che c'è a destra, sinceramente, non mi interessa. Però, incominciamo ad utilizzare il taglio delle clip. Allora, se si differenziano adesso qua, io il clip morbido non lo uso mai. Però possiamo fare una prova. Allora, il taglio morbido è K. Taglio morbido è K. Taglio morbido è K. Se io sposto, scusate, sempre destro mouse, la mia clip, vedete? Se vado ad allungarla, la mia clip riprende lo spazio che avevo tolto, non l'ha perso. E questo qua sarà audio vuoto. Cioè, non è che l'audio lo allungate, non è aumentata la velocità in questo modo. Sì? No, no, no. Stavo con bollano. Ecco. Questo è un taglio morbido. Vediamo un po' sulla locandina. Facciamo un altro taglio. Ovviamente il taglio verrà fatto sempre. Dove avete il cursore? Allora, K. Eccolo lì, il cursore. Destro mouse. Sposto. Modifico. E questa è un'immagine per cui è anche un po' un'assurdità. Sul video, praticamente, cosa succede? Che questa parte qua, questa qua, essendo un taglio morbido, rimane. Se io vado a ricomporre il mio taglio, a riportare la clip alla stessa dimensione precedente, lui riacquista, il video non è perso. Mentre, allora, torniamo giù. Mentre, in questo caso, giusto, progressiamo al cursore, vicino qua, al Chuck. Facciamo Shift K. Questo è un taglio. No, ho sbagliato qui. Immagino. Va bene. Allora, selezioniamo la clip. Eccola qua. Shift K. Questo è un taglio. Hard. Se io sposto la clip. Eh, sì. La dedizione. Qua c'è la mia. Ecco qua. Se io taglio la clip e provo a ricomporla, non esiste. Cosa fa? Un video, l'ultima clip di un video, se voi provate a stenderlo, prende l'ultimo fotogramma e ve lo ripete per la lunghezza che voi, di quanto voi avete. Esatto. L'ultima immagine la vedete costante, come se fosse un fermo immagine. Esatto. Ecco la differenza un po' tra taglio hardware e taglio no. In caso di audio o che succede? In caso dell'audio, non tornate, cioè l'audio, se tu lo tagli rigido, sposti tutto. Se tu lo allunghi, fa il silenzio, silenziato. Allora, facciamo una prova. Quello neanche servono più. Esatto. Intanto questa non ci serve più. Proviamo su questa. Vi facciamola visualizzare. Abbiamo questa cosa qua. E andiamo su control. Ascenniamo. Prendiamo la maniglia. Spostiamola. E sempre visualizzare. Non so se l'ho fatto un taglio morbido qua. Non mi ricordo più. Ne facciamo un altro hard qui. Ok. Dunque shift K. Taglio hard. Spostiamo questa clip sul canale successivo. Facciamo così. Prendiamo la maniglia. Non si allunga più. Non si allunga più. Non va da nessuna parte. Non può allungarsi perché non trova l'audio. Tu l'hai tagliato lì, ma ne era hard. Mentre prima lo recuperava. In questo caso non c'è. Semplicemente non c'è perché è nell'altro clip. Ok. Allora. Abbiamo spezzettato. Abbiamo fatto un po' di tagli. Vediamo se riusciamo un po' a comporre la cosa. Abbiamo tolto anche il marcatore. Vabbè. Rimettiamoci qua. Sentiamo. Ok. Qua possiamo tagliare anche l'audio. Shift K. Tagliamo anche il video che ci interessa. Shift K. E basta. Selezioniamo questa. Cancelliamo una clip. La clip la cancelliamo con X. Premiamo X. E dice vuoi cancellarla. Invio. Destro mouse. Selezioniamo la clip. Possiamo andare. Vediamo. Forse c'è anche scritto qua. Eccolo qua. Cancella spezzone. Non c'è anche nel menu a tendina. Spezzone. Cancella. Destro mouse. X. Ok. Destro mouse. X. Ok. Destro mouse. Ok. Altra cosa. Tutte. Se ne ho molte da eliminare. Se ne ho molte da eliminare. O voglio eliminare tutte le clip. A. Che vorrebbe dire. All. Seleziona tutte le clip. E le elimino. Ecco qua. E le elimino tutte. Non lo faccio. Perché sennò dopo devo rifare tutto quanto di nuovo. E. Altro tipo di selezione. Tasto B. Possiamo creare una finestra. Seleziono il clip. Tasto X. Elimino. Destro mouse. X. Tolgo quello che non mi serve. Vediamo. Questo qua non mi serve più. Perché ho allineato il mio video. E via. Ci troviamo adesso. Finestra su. Home. Cioè. Treccia su Home. Tutto il progetto. Ehm. Il canale audio. Nel. Il. La clip audio. Nel canale 4. La portiamo al canale 2. E. E. Questa. Andiamo avanti. Dunque. Cosa dobbiamo fare. Ehm. Andiamo. A vedere. Cos'altro. La selezione. Quella che abbiamo visto adesso. A. Che seleziona tutte le clip. Destro X. E. Seleziona la finestra. Ehm. Qui. Adesso. Inseriamo. Possiamo vedere. Sì. Il dimensionamento delle clip. Allora. Dimensionamento delle clip. Prendiamo. Come esempio. Andiamo a prendere. In questo caso. Eh. Video. Lo screencast. Selezioniamolo. Trasci. No. Scusate. L'icona. Usare. Come. Lo prendo. È proprio l'icona. Perché se. Sì. Esatto. Non funziona. E' vero. Dovete. Bisogna prendere l'icona. Portiamo il cursore al suo posto. Inseriamo la clip. Messa dentro. Questo è lo screencast. E la registrazione. Eh. Del monitor. La registrazione del monitor. Ha la risoluzione. Di uscita. Noi lo vogliamo più piccolo. perché se no non vediamo, non diciamo visualizzare il relatore. Allora, cosa facciamo? Andiamo nelle proprietà della clip attiva che vedete dal bordo bianco, andiamo ad impostare scostamento immagine, se noi selezioniamo scostamento immagine lui andrà ad impostarle alla risoluzione di uscita che è quella che avevo fatto vedere, non so se all'inizio mi sembra, ok. Allora siccome è una risoluzione diversa ce l'abbiamo qua, cosa facciamo? La portiamo nella posizione più congeniale, dunque scostamento immagine, sinistro mouse, destra sinistra, lo porto nel bordo a destra, asse y lo porto in alto, ok. Voglio fare un po' il precisino, rotella mouse, zoom, vado nel asse x, mi sembra che ci sia tutto, vediamo un po'. Ecco qua, mancava qualcosina, lo voglio allineare bene, asse y lo porto su, lo voglio allineare bene. Nel caso che questa clip non sia abbastanza piccola, andiamo a modificarla nuovamente con una scala, scalandola leggermente. Allora, innanzitutto per capire se è abbastanza grande o meno, devo cambiargli delle proprietà. Queste immagini hanno il canale alfa, cioè vengono inserite questi video, cioè quando li vedete qua, lo possiamo mettere, come si dice, in overdrop, cioè lo mettiamo sopra, ma visualizziamo quello che c'è sotto. Ecco qua, comunque vediamo, prima era in perlaccia, se non mi sbaglio, non lo vedevo perché le mie clip erano spostate, allora devo metterli in overdrop e visualizzo quello che c'è sotto. Allora, zoomo e può andare bene, ma mettiamo conto che io lo voglia un po' più piccolino, dunque vado a dimensionare l'immagine. Come si fa? Devo inserire i benedetti effetti. In questo caso aggiungo lo spezzone effetti, un trasforma. Questo effetto me lo dà su tutta la sequenza video. Cosa voglio fare? Voglio cambiarne le dimensioni. Prima, se avete osservato, non mi dava la possibilità di scalare uniformemente. In questo caso me la dà, non gli do più uno, ma mettiamo un 0,75, eccolo lì, poi vado a riposizionarli con il pulsore in alto a resta, in modo da vedere nuovamente il schermo generale. Anche in questo caso l'effetto, vedete qua, è sostituisci, perché sostituisci sulla transizione, sul transform. Dunque devo dargli anche a questo l'overdrop. In questo caso a me non interessa, perché la dimensione mi può andare bene come era originaria. In conseguenza, X e tolgo l'effetto e lascio tutto così com'è, che in questo caso ci può andare bene. Allora, adesso devo allineare però il screencast. Come faccio? Trovo una clip che sia, che vada bene. Ho fatto una cavolata enorme. Ok. Dunque, come faccio a trovare il clip giusto, lo vediamo qua, come ha fatto Stefano l'altra volta, cerchiamo un punto di, eccolo qua, un punto di visualizzazione. Andiamo a filmare. di un punto di visualizzazione. Ok. Eccolo qua, sono qua vicino. Ok. Ci spostiamo. Eccola qua. Eccola qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Questa immagine qua. Questa è l'immagine dello screencast, no? Abbiamo visto che è qui. Lo spegniamo. qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo in cerca dello spezzone....'emmm'er'. Ok, andiamo un po' indietro, eccola, non sono dimenticato di mettere il marcatore sulla linea, va bene, questa l'abbiamo impostata, aggiungiamo un marcatore qui e andiamo a visualizzare di nuovo, devo selezionarlo perché ho sbagliato, allora, eccolo qua, un po' indietro, qua ci eravamo quasi, ok, andiamo a zoomare per posizionarli correttamente, seleziono la clip, ok, la scense, io l'ho perso, ok, vediamo se va bene, non va bene, sbagliamo, un'altra volta, e il suono da quasi, ok, finiamo un altro po' per vedere se va tutto bene, avrò il cursore, e spengo questa, si, ok, allineate le clip, dunque, vediamo qui com'è, questo non mi interessa, ok, qui c'è il chat, e qui, vediamo dove siamo, di nuovo, ecco, partiamo da di qua, tutto quello a sinistra, non mi serve, shift k, taglio, seleziono, seleziono, k, e, shift k, selezione multipla con b, finestra, non la presa, vediamo, che è così, di nuovo, vediamo, qui, dopo abbiamo bisogno di selezionare tutto la clip, si è Senza altra parte a mente non è il problema, ma non è il problema, ecco vedo, novità, dunque shift, destro mouse, shift, destro mouse e X. Mettiamo la partenza, allora, adesso potremmo un effetto di transizione del clip, questa qua che è uguale a questa, che possiamo cancellare, vediamo un po', mettiamola al primo, che ora sono? Dieci e mezza, dieci e mezza, allora andiamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di, ho spedito, poi vediamo il canale è l'1, il primo fotogramma lo mettiamo a 0, ok, l'altro fotogramma, facciamo 5 secondi circa, 5 secondi, mi va bene qua, senza andare tanto a impazzire, control, destro mouse, X, eliminiamo. visualizziamo la clip, ok, ecco qua, allora, partiamo così che, insomma, non è il massimo, possiamo fare una dissolvenza da 0, video, a la visualizzazione del video, e qui entrano in gioco, una delle caratteristiche più importanti di Blender, che sono, comunque il ridimensionamento l'abbiamo visto prima, la trasformazione anche, tramite la scala, dimensionamento, trasforma, richiamare con il tasto N, va bene, su menù a tendina, ecco qua il keyframe. per inserire il keyframe, un punto, cioè che è una chiave che noi andiamo a inserire e sarà un punto di, diciamo, di blocco, di riferimento, con delle determinate impostazioni della clip, che noi teniamo ferme, inseriamo un altro keyframe, inseriamo un'altra tipologia di caratteristica della clip e creiamo un'intersezione di questo effetto alla clip, cioè dal punto, diciamo, se gli diamo un valore 0 al valore 100, questa clip sfumerà dallo 0 a 100. proviamo a farlo, allora, selezioniamo la clip, andiamo nel, dagli opacità 0 e inseriamo col tasto I sopra a quel tipo di caratteristica, l'opacità in questo caso, premiamo I, si trasforma di colore giallo, noi abbiamo inserito un keyframe, dove andiamo a vedere i keyframe e dove andiamo a modificare le impostazioni dei keyframe, nel menu, nel menu, nel menu, nel menu, editor graphic, eccolo qua, allora ci spostiamo, opps, mannaggia, ecco qua, scusate, ecco qua, ecco qua, anche qua proviamo a fare, proviamo a fare freccia su, ecco il nostro keyframe, ecco il puntino lì, allora adesso io a tre secondi, scusate, a tre secondi voglio, andiamo indietro di un frame, voglio che la mia clip si visualizzi completamente, allora la porto a opacità 1, effetto, è 0, se io faccio la totale, e gli inserisco un nuovo keyframe, allora, non si è visualizzato niente, eccolo qua, era in un punto sbagliato, eccolo qua, cosa succede? questa è la dimensione, vedete, della mia transizione, qui posso eventualmente modificarla, allungarla, vedete, oddio, se prendo il keyframe sempre, con il destro mouse, posso modificarla, a mio piacimento, allora, andiamo a vedere se ha funzionato, shift, sinistro, cursore, in partenza, tastiera, eh sì, tastiera, space, per avviare la clip, eccolo qua, vi è diventato a opaco, ok, non mi piace un'altra cosa, la partenza allo zero, cioè non so cosa mi verrà forse, io non metto niente, facciamo una clip che sfuma dal nero, da uno sfondo nero, in cui magari avremmo potuto mettere un titolo, ma in questo caso non serve, perché il titolo della clip è questo, allora andiamo ad aggiungere un altro effetto, un altro effetto, scusate, dove sono, eccomi qua, un altro effetto che aggiungi, ovviamente su aggiungi trovate, spezzone effetti, tutti gli effetti, aggiungiamo un colore, eccolo qua, il colore lo faccio sui tre secondi, lo faccio sui tre secondi, allora, cos'è, 75, no? Allora metto qua 75, anche 76, anche 80, tanto quando la mia clip superiore è completamente opaca, non vedo più ciò che mi sta sotto, per cui posso allungarla a piacimento. Riproviamo, avvio, scusate c'è qualcosa di attivo, sì, la clip, ok, avvio, ok, dal nero, avviamo la clip, molto bene, adesso, ah guarda che mi zoom anche, questa non la sapevo, va bene, adesso cosa succede? Ah sì, se io, non lo faccio adesso perché non vorrei sbagliare, se io so di aver impostato il mio video e l'audio in in maniera corretta, selezionandoli entrambi, facciamo una prova, destro, e so che non andrò più a modificare queste due caratteristiche, shift, destro, mouse, 1, 1, 2, spezzone, posso creare un meta spezzone, meta spezzone che, cosa fa? Unisce l'audio e il video, va bene, allora, buonasera a tutti di nuovo, e... come sto lavorando a un piccolo giro? questo è una buona, come dire, buona unione. Andiamo di nuovo a toccare, ecco, andiamo di nuovo all'inizio della clip, abbiamo inserito la nostra locandina, e cosa vogliamo fare adesso? e... andiamo a unire al... andiamo a sfumare dalla locandina alla clip video, e cosa facciamo? selezioniamo le clip, abbiamo messo il cursore, lo mettiamo, vediamo un po', a un secondo, lo faccio veloce, perché mi sembra di capire che il tempo sta un po' volando, e... lo metto qua, 3 secondi, 24, 4 secondi, seleziono la clip, shift, s, la porto al cursore, seleziono la clip, shift, s, la porto al cursore, così rimangono allineate, se io faccio così, avrò un... va bene, allora, buonasera, spazio, e... sai cosa fa? faccio, accorcio ancora un po' questa, perché è meglio, vediamo un po', shift, s, e shift, s, ok, va bene, allora, buonasera, bene, possiamo provare a partire in questo modo qua, come faccio? seleziono la clip video, e creo una transizione, una transizione, allora, tra la clip dell'immagine e la clip video, le seleziono entrambi, prima quella di sinistra, poi quella di destra, andiamo a mettere un effetto, aggiungi, spezzone, frame, in questo caso userò incrocio, in inglese, trovate il cross, se non mi sbaglio, inserisco, senza fare niente a questo effetto, lui, incrocia la frame, ovviamente, l'avete visto un po', cioè, un po' veloce, basta allungarlo, guardate qua, prendo la maniglia, sinistro, mouse, se lo allungo, ok, va bene, allora, buonasera a tutti di nuovo, è un po' più morbido, può andar bene così, teniamolo così, e, altra cosa, vediamo se mi fa, c'è una cosa che non mi piace, va bene, allora, buonasera, mi appa, se non metti, non lo so, non l'ho mai fatta una, non so cosa veda, non so, magari viene bianco, ok, ecco una cosa, sull'effetto colore che ho messo qua, posso cambiarlo, posso modificare i colori, come voglio, posso fare un effetto da rosso, ok, la tua mia clip passerà da rosso, eccetera, ecco, questa è un po' la caratteristica delle proprietà degli effetti che mettete, questa appunto, sono le proprietà dell'effetto che potete andare a vedere e vi permette di modificare, altra caratteristica, vediamo, ecco una cosa che non mi piace, adesso vediamo se riesco a farlo, quando parte, allora, buonasera a tutti, ah, c'è questo, screencast qui, che parte, che non mi piace molto, che venga visualizzato così, improvvisamente, allo stesso modo, allora io voglio fare, ecco, quando, Dario gira la testa, eh, mannaggia, bravo, era allineato, bravissimo, allora noi facciamo così, me lo tengo così, eh, voglio che quando, come te, come te, come te, come te, no, 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 lo taglio, semplicemente lo taglio qua, eh, lo taglio qua con Shift K, eh, questo per il momento proviamo a spegnerlo perché non ci serve, quando gira la testa voglio che mi compaia, eh, il mio screencast, cosa faccio, faccio, ma ci metto un bel try frame qui, ok, dunque, anche, esatto, eventualmente avrei potuto fare anche questa cosa se mi interessava la parte di video, eh, ok, allora inserisco, questo, vado nelle proprietà, porto a zero il mio, eh, screencast, inserisco con la E, il keyframe, ecco, inserito, porto un po' più avanti, non so, ecco, quando qua sembra più curioso, la visualizzazione, a opacità, uno, del keyframe, eh, sì, del, del screencast, inserisco l'altro keyframe, e, per mai essere apposta, ecco qua la curva realizzata, sarà molto veloce con questi spazi, queste cose poi le si possono aumentare o diminuire, insomma, il mio piacimento è... Qui parla di curva perché in verità è una curva, non è un punto e punto, è una curva, perché lui fa dei calcoli, eh, so che avevo letto, la tipologia di calcoli, fa di approssimazione in base al tempo e alla tipologia di immagini, insomma, di colore, dei frame, eccetera, allora che li sfumano, eccetera, non è una curva realizzata, quelli servono, esatto, servono per impostarla. Allora, vediamo un po' se... Ecco, anche qua stesso discorso, eh, sci contro la rotella, e giugniamo, è la nostra, è la curva che ve lo dite improvvisa, eh, ve la cambio e potete modificarla un po' come volete, insomma, anche il discorso che diceva, ecco qua sono, scusate, togliamo il cursore, potete modificare voi la curva, come diceva Marco, benissimo, ok, anche impazzire, farlo impazzire, potete fare delle prove per vedere cosa succede, insomma, per curiosità, e cosa facciamo? Abbiamo inserito i keyframe, andiamo a shift sinistra e vediamo come partiamo, cosa abbiamo combinato, se ci piace, si può andare bene, va bene, allora buonasera a tutti di nuovo, eh, guardare, gira la testa, arriva l'immagine e via, e il video prosegue, a non finire, non abbiamo mai salvato perché con Blender non serve, non mi è mai crashato una volta, unico punto a favore, no, scherzo a parte, devo dire, ecco qua, si diceva appunto salva, io non avevo ancora dato un nome a questo progetto, ecco ricordatevi di farlo all'inizio, come hai fatto notare Stefano, perché è molto importante, perché può sempre succedere un calo di tensione, qualsiasi cosa, un lavoro magari di un'ora e mezza, perso così non è piacevole, eh, allora, eccolo qua, ve lo dà con untitled, mi sembra, l'ho nominato e come finalmente ho finito, eh, e fai il Blender, hanno l'estensione, punto Blender, sono molto piccoli anche questi, perché questo non è un nome istruttivo, esattamente, dunque, quello che facciamo noi non è quello di modificare i video che noi abbiamo registrato, ma creiamo tipo dei collegamenti a quei video e li modifichiamo come vogliamo, di conseguenza sono solo come dei collegamenti ad un file molto piccolo, insomma. Il file di progetto è un file di testo, un XML, un XML, un XML, sì, grazie. E quindi faccio il progetto e faccio quello che voglio, posso avere più progetti? Sì, più progetti. Allora, 10.43, potrei continuare a fare la sfumatura in uscita, rinserendo le domande, concluse, no, ecco, sembra difficile, ma lo è, nel senso, è solo questione di un po' di tempo, io ho questa sera, in quanto ci ho messo, anche con la spiegazione, a montare un video che la prima volta mi ha fatto un po' disperare. Sono venuto a conoscenza anche di altri effetti, altre cose molto particolari che mi piacerebbe trovare in futuro, che vi farò vedere, perché saranno molto interessanti e che potranno cambiare anche la metodologia di output di video che noi presenteremo. Saranno delle prove che dobbiamo fare, che sono molto curiosi. Penso sicuramente si possono fare con KDN Live, che sono le videocamere multiple e allora lo screencast va a visualizzarsi, a tornare e a sparire in funzione del tema che sta esponendo l'interlocutore. Scusate, le peculiarità dell'uno e dell'altro, qual è che è meglio l'uno o l'altro? Ciao, quant'è che è meglio l'uno o l'altro? Secondo me non, cioè come sempre il solito concetto del software libero e dell'interfaccia grafica, qual è meglio? Quella che va bene a te. Dunque le prove uno, prove l'altro. Se siete un programmatore varia di comando, o va anche con... E vada dove vuole. E vada dove vuole. Controllate la pesca. Anche dici che si potrebbe trovare meglio con questo perché usa i tasti. Tu non lavora molto, perché in generale potrò si farà meglio con questo. Cioè ad esempio qui abbiamo anche in partenza, ecco qua vedi Blender, abbiamo la possibilità di configurarlo come... No, scusate, non è qui. Comunque come l'uso dei comandi di Maya e altri software. Se uno usa Maya e usa KDN Live ed è bravo a montare i video, eccetera, magari va fuori... Cioè non riesce perché è abituato in una certa maniera. O magari come me, probabilmente, adesso tornare a usare KDN Live avrei delle difficoltà. Per cui uno deve trovare il suo ideale. Comunque provarli, provarli uno e l'altro. E dopo il piacimento, vedere come risponde con la macchina. Io sono stato contento di Blender, adesso sono curioso di tornare un po' a KDN Live per vedere se appunto è più stabile e può darmi i risultati che cerco nel tempo minore possibile. Questa è solo una curva di apprendimento un po' diversa, però poi i risultati sono soddisfacenti perché entri in un mondo veramente che è ampio. Se poi ti incuriosisci sempre di più, incominci con le scene, a creare oggetti, a fare testi pridimensionali che si muovono, eccetera, e incomincia a diventare molto interessante, quanto impegnativo. Oppure certe cose le fai con questo e altre le fanno l'altro. Esatto, dopo uno... L'importante era in queste serate forse non vedere le differenze principalmente tra l'uno e l'altro, ma capire che ci sono questi software che sono sempre liberi e che danno degli ottimi risultati. Scusa Marco, non so se ti ricordi cosa volevi chiedere la domanda. Eh? Non mi ricordo più... Te lo dico io la domanda. La domanda era, ma ti sei dimenticato di dire di sincronizzare... Ecco è l'altro. Sincronizzate sempre la riproduzione all'audio. Scusate, mettete sincro a B. Questa è un'altra cosa importante da fare. Ecco, altre caratteristiche... Ci sarebbe altro da dire, ma per il momento, diciamo, per il montaggio, quello che dovete fare per iniziare fate pure queste cose qua. Ecco quella cosa che ho trovato molto utile, per me è scopo di fatalità, leggendo un po' nei forum, guardando un po' di video, è stata questa dell'onda della clip audio, che è molto importante appunto per poter allineare l'audio. Adesso vi faccio l'esempio dell'allineamento fatto... Allora, vediamo un po' se si vede... Ecco dovrebbe essere... A questo punto per se parli allo stesso punto... Ecco, adesso nel 2, chiaramente coloribili allo stesso punto. A questo punto per se parli allo stesso punto... Non so se si sente il clip nella proprietà della parte specchiata, e vi dico che la base non è più quella... e vi dico che c'è una perica, ma è un pochino qua... e vi dico che non riesce a far spiegare una riposizione, quindi diciamo così. Adesso ho fatto il 25 premio. Ecco, una cosa appunto che io non ho specificato, potete migliorare le prestazioni nella visualizzazione, nell'elaborazione del vostro progetto. Scusate, in un attimo mi dà fastidio questa cosa qua. Una cosa, eccola qua, che potete fare è utilizzare il proxy time record. Provo a buttarlo lì perché io l'ho provato l'altro giorno, non ho capito se è funzionato o meno. Dunque, il proxy time record crea un file, mi pare di aver capito, che toglie la risoluzione delle anteprime in modo da poter gestire meglio anche, vedete, l'uso del cursore così molto scattoso. È molto scattoso. Se noi proviamo a salvarlo, mi sembra che non me l'abbia dato perché io l'avevo fatto, non so se devo rifarlo ogni volta a un nuovo progetto. Ecco, allora, possiamo provare a... mi sembra, mi sembra... faccio, vado così a... non mi ricordo, eccolo qua. Ricostruisci time code, l'ha fatto? Non l'ha fatto? Non lo so. Allora, selezioniamo... E ma... Allora... Questa qua, io voglio questa clip qua, no? Andiamo in time code, abbiamo detto. Per progetto è per proiezione, sarebbe per progetto, no? Perché io progetto non l'ho mai letto da nessuna parte. Io mi so al 50, tanto per... Sovrascrivi vuol dire che ogni volta che voi... mi sembra rielaborate. Selezioniamo selezionati. Eccolo qua. Bravo. Ok. Aggiungi modifiche a spezzone. Fa le spezioni selezionati. Qua andiamo a braccio perché purtroppo non mi ricordo bene. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Eh, quello ha fatto, basta. Sì, ma adesso devi andare sui preview. Ecco... Ok, prendi il penne. Ah, giusto, prendiamo, grazie, grazie. Eccolo qua. Eh, dunque... Cos'era? Prima lento è il penne, su, su, su. Ok. Eccolo qua. Non so se la stia realizzando, no? No, no, adesso sta leggendo la G-Pro. Ah, ok. E se mani il day dovrebbe tenere i freni a rete adesso. Ma vedi che mi ha scalato, è possibile? Poi, sul motore ho vincolato l'elica e poi... Mi ha cambiato le impostazioni qua, eh. E' stata la forza di 5 cascetta? Sì. E' questa è una persona che si può fare. Sì, sì. Eh, me l'ha mangiata, eh? Ok, proviamo qui. Comunque, ieri ho notato delle differenze. Però, eh, dovrebbe aiutarvi un po', dopo si potrebbe vedere meglio come funziona, ma io ho detto che non dà bene. E quant'altro? Ho salvato il vostro progetto, andiamo a vedere cosa abbiamo combinato qua. Dunque, i keyframe li abbiamo visti. Ecco, per eliminare un keyframe, preme il tasto ALT I sul proprietà della clip e che abbiamo inserito il keyframe. Per trovarli, abbiamo usato le frecce, pagina su, pagina giù, l'effetto tramite il keyframe l'abbiamo fatto, l'effetto incrocio e l'effetto colore. Quelli sono molto semplici, basta inserirli, dispostateli, dimensionate, potete cambiare colore. E qua gli effetti poi si possono, possono variare come volete, nelle proprietà. Vi potete modificare i vari effetti. Basta, questo è il link al tutorial, il Wikibooks che ha creato Stefano Spagnolo, che vi consiglio di seguire. se volete se volete non so, Wikibooks l'hai scritto tu? Sì, bene, andiamo a tutta. Le basi di partenza sono quelle che poi vi permettono anche di capire un po' la gestione. La base di partenza è solo continuare a provare perché non è di facile archivizzare. Il problema di apprendimento è molto facile, esatto. Però vale la pena, vale la pena. Adesso sono soddisfatto, poi ti vengono in mente come fare determinate cose e sapendo come muoverti puoi sempre migliorare. È stato interessato anche per me poter farvi vedere cosa sono riuscito a fare insomma con questo software che non è stato proprio sempre. Che rende? Da dopo? Manca roba. Quello non serve dunque abbiamo realizzato solo come mi fanno notare i miei colleghi giustamente che abbiamo realizzato solo il progetto Blender dunque non abbiamo il filmato finale. Allora andiamo ad aprire la finestra proprietà eccola qui realizzato tutto sistemato abbiamo l'animazione proviamo e stiamo qui fino a domani eccola qua allora lui parte e renderizza il vostro lavoro e ve lo fa ve lo fa uscire con le proprietà da voi impostate allora Stefano Marco e anche io ho provato abbiamo visto che c'è probabilmente un plugin uno script scusate da utilizzare per poter usare tutti i processori del vostro computer questo accelera il calcolo di rendering ed è molto importante io ho provato sul mio io uso una Debian una distribuzione Debian 8 e ho scaricato dal sito ufficiale del Blender il il programma mi sono creato l'icona come vi spiegavo all'inizio ho provato ma non ha funzionato non so dove ho sbagliato Marco ha provato e ha però installato Blender dai repository di Ubuntu e ha funzionato Stefano non mi ricordo si ha provato con Fedora su Debian stessa cosa dunque riproveremo ancora questa cosa perché è importante perché fino adesso uno del lato negativo appunto di Blender è il calcolo di rendering perché vai a letto cioè prima di andare a letto avvi il render e ci pensi la mattina successiva e esatto immaginate voi che è un senso che è un senso che è un'unica complice con il momento è realizzata fino a quel momento con il video di farlo dunque va a rubare se vuoi ha un video di se vuoi 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 ecco perché l'importanza della possibilità di aumentare tutto il processo cioè lo trasforma dall'inizio lo sposta crea un file video e te lo trasforma completamente è come prendere un'immagine pixel per pixel li spostiamo dove vogliamo noi per creare un'immagine diversa comunque immagina i pixel che ci possono essere su un video mossi e lavorati dal successore grazie